La bambina YouTube La sua pelle è un panno bianco ricucito da ghirigori di figli neri molti spigli colorati nel suo cuore sono puntati ha un bel paio di occhioni che usa per intontolire i ragazzoni che è i ragazzoni? è finita? è questo sto schifo lo schifo di Tim Burton ma non fa schifo è schifo di Tim Burton? no, ho capito di leggere la morte del bambino cosa vuoi che capisca quello che leggo invece è bellissimo dopo il tredicesimo bicchiere colletti frocio e frocio è che il migliore dice frocio queste sono tutte carine vuoi andare avanti ancora colletti il bambino con i chiodi negli occhi che figata il bambino con i chiodi negli occhi impiantò il suo alberello d'alluminio ma cresceva di sbieco perché lui era cieco io la trovo bellissima da tanto leggiamo ancora con più caldo ma poi devi vedere il disegno è una starca è malato quest'uomo vedi due più avanti c'è il bambino morte malinconica e il bambino ostrica la bambina con monti occhi ma comunque è turbato si è abbastanza è un attimo spostato sto regista morte malinconica del bambino ostrica ostrica si dichiarò tra le dune si sposarono al mare volto pagino stese al sole per nove giorni fece la capria l'ugna di miele pranzarono con un piatto prelibato uno stufato di triglie e cozza triglie e mentre lui beveva il brodo della tazza a lei preso un non so che da sposa una voglia ma cazzo leggo e mentre lui beveva il brodo della tazza a lei preso un non so che da sposa un non so che e mentre lui beveva il brodo della tazza a lei prese un non so che da sposa un non so che da sposa a lei preso un non so che da sposa una voglia ho buttato io un rullino ragazzi per voi manca una rierba un refuso un refuso ah ma anche a seguito quella voglia si gonfiò e in un bel un barabacicicocco ma vaffanculo anche tu ma era un bambino quel frugolino ah ma continua ancora si si continua lei si è presa col dottore il dottore si ammalò un barabacicicocco non può essere figlio mio sa di mare di alghe di sale a tutte le ore sia felice ma dovresti scrivere più sto libro no io scrivo con cose peggiori non posso neanche una cosa del genere sia felice solo una settimana non favo con una tonal media contro l'orecchio e un becco non canto non 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 non